La Basilica Basiliana di Santa Maria, dove consulenne il rito presenziato da Sua Eccellenza il Cardinale Tisseron, è stata celebrata la funzione religiosa in occasione della consegna del decreto pontificio con il quale la bazia di Grottaferrata viene retta a monastero esarchico con a capo l'archimandrita reverendo Isidoro Croce. Grazie a tutti!